E' un elenco di disastri, di danni economici, di vittime, quello compilato dall'Agenzia Meteorologica Mondiale, un'agenzia delle Nazioni Unite, sui danni che ha provocato il clima negli ultimi 50 anni. Un catalogo accurato, puntuale, di quanto il surriscaldamento globale ha danneggiato moltissimi paesi. Ed ecco qua, per eventi legati al clima ci sono stati almeno 15 morti al giorno, danni per oltre 170 milioni di euro. Milioni di euro di danni anche per...